Dal 27 novembre di quest'anno, prima domenica di avvento, anche nella diocesi di Agrigento scatterà il provvedimento che cancella, si dice temporaneamente, la figura dei padrini per battesimi e cresime. Sicuramente di rivoluzione si tratta. L'addio alle due figure è un decreto che fa discutere parecchio e crea imparazzo e delusione in chi ha legami affettivi e di grande rispetto con i propri padrini. Ecco i padrini, brutta parola dalle nostre parti perché rimanda ad altri scenari, ma qui non c'entra la mafia, ma c'è chi tira fuori la questione degli uomini d'onore che avrebbero influenzato la scelta di cancellare la voce padrino e madrina in seno alla Chiesa. Che la suggestione abbia davvero spinto ad intervenire così drasticamente? Mistero della fede, si direbbe. Adesso viene scritto che per la Chiesa padrino e madrina non sono figure obbligatorie ma facoltative. Insomma, se il fine del provvedimento era quello di fare chiarezza, si è trasformato in uno esperimento che fa già discutere parecchio. Se siamo certi che con lo stop ai padrini la mafia non c'entri, tutto è lasciato all'immaginazione dei cosiddetti fedeli e persino i sacerdoti, in modo particolare quelli catanesi, sono dell'idea che si poteva agire diversamente, con forme meno rigide per non discriminare, ed è questo il punto, i fedeli che in maggioranza sono tutt'altro che bigotti. Perché non parlare e agire di conseguenza anche dei nulla osta richiesti per poter scegliere una parrocchia diversa? Questa si chiama burocrazia ed è esasperante e non dovrebbe riguardare sul serio la Chiesa. Però va bene così.